Eccoci qua zia, oggi parliamo della fine del mondo e del 2012. Secondo il calendario Maya, il termine ultimo del quinto sole avviene il 21 dicembre 2012. Il quinto sole è anche l'ultimo, detto sole del movimento che farà perire tutta l'umanità. La terra cesserà di ruotare e si invertiranno i poli, giusto? Quando potrà vedere una cosa così, da quando il mondo, il mondo non è mai stato successo niente. Il Signore ha creato il mondo come l'ha creato e è rimasto fermo lì. E la gente che cerca di voltarlo, ma non il mondo che si gira. E la gente che c'è dentro, che crede di saper poter farlo, voltare, girare, con gli oristodi, ma non può essere. Ma ci sono tante teorie. Una teoria dice che arriverà un meteorite sulla terra che spacca tutto. Ma non può essere. Non può. Perché il nostro Signore l'ha creato e così è rimasto. Verrà un giorno che verrà la fine del mondo. Perché si sa che il mondo non può durare niente. Può durare, sì. Ma la gente non può durare. Faranno per eliminare un poca di gente. Dopo c'è un'altra teoria che dice che, come ti ho detto poco fa, che si invertono i poli dell'asse terrestre. Sì. Il mondo smette di ruotare. Sì. E piano piano, dato che non ci sarà più vita, moriremo tutti. Ma quella è una cosa che verrà sensata perché se manca il sole, manca la luce, manca l'aria, a piano piano ce ne andremo tutti. Solo che qualcuno trova valdanza nei suoi studi e cerca di mettere già paura alla gente. Ma non può essere. I studi non possono andare, andranno per un periodo di tempo i studi. Ma contro la volontà di Dio non possono andare. Quindi tu dici che sono solo robe per far paura alla gente. I studi cercano di mettere paura alla gente. Che il mondo così, il mondo così. Anche qui diceva, dicevano che veniva la Luvione una volta. E hanno già andato a finire sul monte per salvarci. Tutti cercano di salvarci. Quelli pronti a girare e a dire. Perché tutti vanno sul monte a dire e adesso vogliamo che venga la fine del mondo. Ma secondo te non succederà mai una roba del genere? Beh, è la fine del mondo, ma in altri sensi. Ma quando? Quando che la sua ora, quando che il nostro signore destina era la nostra ora per tutti. Ma la gente vuole sapere, vuole avere una data precisa, vuole avere un giorno. Non può essere, non può avere una data. La fine del mondo non può avere una data. Perché c'è una roba improvvisa. È fatta improvvisa, verrà improvvisa. Come quando viene la neve, la tempesta. Pensava che venisse pure, viene. Calma, calma, le cose si presentano. Un altro signore vede che le mani robe vanno un po' per il peggio. Cercherà anche lui di metterci dalle nostre parti. Ma se vediamo la storia da un altro punto di vista, noi sfruttiamo tanto la Terra, giusto? Come pianeta la sfruttiamo? E se la Terra si ribella con tutti questi terremoti? Noi sfruttiamo troppo la Terra. E con le robe di piantare, con gli alberi. E col petrolio. E con le case, quella della Terra trema, no? E dopo il vuoto sotto la Terra, il terremoto, e lì verranno nei pori le mani, i risultati. Sì, ma tutti questi nel giro di un anno. Non possono pretendere che la Terra si calmi. No. Sì, ma nel giro di un anno, zia, c'è stato l'Aquila, il terremoto. E ma dire a quei signori che studiano tanto, che cercano di fomentare la gente, che noi in questi studi sapranno qualcosa, ci vanno avanti, si sai? Se studi. Ma non possono dare questi studi contro la volontà di Dio. E che è Dio che fa, no? Siamo noi. Lo so. Ma tu devi capire che nel giro di un anno, c'è stato l'Aquila, Haiti e anche il Cile. Tutti disastri nel giro di un anno. Sì, sì. Tanta gente è morta. Staremmo a vedere. Tanto io sono già anziana. Per quella volta spero di essere già nel bergato dei pini. Ma tu arriverai a 100. Eh, bisogna, no? Eh Dio, zia, mancano 17 anni. Eh, sicuro? Ce la fai, sicuro che ce la fai? Sicuro, sono già 26, è il giorno di Pasqua, 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 ma noi arriveremo a 100, non sta a preoccuparti. Eh. Eh. Quindi, zia, abbiamo capito la tua opinione. Un saluto a tutti. Sì, che di qui è? No, un saluto. Saluti a tutti. E alla prossima. Sì, ma alla prossima, io. E come quella qua, di roba, di storia, mi piaceva mettermi dentro, ma no? Altre robe. con quei nomi che hai sempre tu, che io non capisco. Mi pareva cadere con queste sale. Mi piace mangiare quella colombina qua.